Il disastro che si è abbattuto sulla Pedemontana ha causato gravi danni a Lusiana Conco che è uno dei comuni più colpiti dell'intero comprensorio. Nel territorio comunale sono state registrate una frana sulla SP69 a Velo e una sulla provinciale 72 vicino al ristorante al tornante di Conco, oltre a una in località Cavecchia di Laverda. Sulla provinciale 95 sono stati portati molti detriti all'altezza di Santa Caterina nella cui vallata sono stati segnalati inoltre allagamenti di garage e abitazioni. Nelle contrade Zampese, Pernechele, Frelli, Cezzi, Xilli e Rovera. Vallastaro è stata ricoperta da uno strato di grandine mentre in zona Galgi ci sono stati allagamenti e sversamenti di detriti in strada. Strade allagate pure in centro Lusiana con danni ad abitazioni e negozi. A Gomarolo, Fontanelle, Pologni, Stringaris, Pelonchette ci sono stati molti sversamenti di detriti sulle strade con gravissimi problemi per la viabilità. Blackout hanno interessato Laverda, Velo, Conco e Lusiana a più riprese durante i vari temporali che si sono abbattuti sull'area. Operai comunali, protezione civile di Lusiana e Roana, protezione civile regionale, volontari e cittadini hanno lavorato duramente per tutta la notte e per gran parte della giornata per sistemare i danni causati dal fortunale.